se vi siete stancati di mangiare il petto di pollo sembra la stessa maniera classica potete provare a fare gli arrosticini di pollo è una ricetta molto molto semplice in realtà si prende il petto di pollo intero eliminiamo chiaramente l'ossigine la parte grassa lo puliamo e lo tagliamo tutto a tocchetti lo mettiamo in una bulla e lo facciamo marinare qui libero spazio alla fantasia come dico sempre quindi sale e pepe naturalmente paprika affumicata un pochino di senape ci possiamo mettere anche un pizzichino di curry olio stravergine d'oliva naturalmente un boccino di aceto quello che vi piace finisce tutto a marinare il vostro bel petto di pollo dopo di che prendete dei stuzzicadenti per gli spiadini che vanno non so se lo sapete ma vanno immersi prima in acqua li tenete in una ciotola in un piatto con l'acqua in modo che si insuffino e quindi resistano durante la cottura infilzate tutti i vostri bei cubetti di petto di pollo salate se necessario un goccino d'olio sulla piastra a cuocere saranno buonissimi